Un buon ascolto implica una buona comunicazione. Ascoltare significa anche recepire bene il ritmo, il tono, il volume della voce che sta comunicando con noi. Ma ci siamo mai chiesti se utilizziamo bene la nostra voce per comunicare? Allora per scoprirlo vi invito a seguirci nel nostro prossimo appuntamento nella lezione dedicata proprio a dizione e voce tenuta dall'attore Alessio De Caprio, sempre qui sul canale YouTube di Radio Più Roma.